Sospiro di sollievo per i lavoratori della Terminal Tremestieri. I 35 dipendenti addetti agli approdi a sud della città saranno assorbiti dalla ditta Comet SRL con il benestare del tavolo prefettizio conclusosi ieri sera con le parti in causa. L'avvertenza era scoppiata negli ultimi 13 giorni bloccando anche il molo di Tremestieri con un flusso costante di mezzi gommati lungo le vie urbane da e verso la Rada San Francesco, ma da oggi la viabilità è tornata a regolare. Dal 15 ottobre l'impresa Comet ha preso in affidamento l'appalto in modo provvisorio e attende la giudicazione da parte dell'autorità portuale che presumibilmente potrebbe concretizzarsi entro la fine del mese a tutelare i lavoratori, i fast confs al Sicile e UGL Mare, rispettivamente con Nino Di Mento, Pippo Tesoriero e Guglielmo Pellegrino. Loro davanti al capo di gabinetto Maio, all'assessore alle politiche del mare Sebastiano Pino, all'autorità portuale con il presidente Desimone, il segretario generale di Sarcina, all'uscente termine al trimestiere e alla ditta concessionaria hanno incassato l'ok di Ivo Blandina, responsabile appunto della Comet. Ieri sera in prefettura, dopo un anno e mezzo di lotte, di mancate riunioni e incontri, alla fine si è arrivati a determinare appunto l'avvertenza occupazionale di tutti e 35 lavoratori. Poiché la Comet si è assunta l'impegno avverbale, quindi nella riunione in prefettura, che assumerà tutti e 35 lavoratori con gli stessi livelli contrattuali e le stesse mansioni. In questo momento siete sempre stipendiati dalla Terminal 3 mestieri, giusto? Ci saranno delle prassi procedurali sindacali, la Comet ancora non è firmataria di contratto, anche se ha vinto la gara d'appalto. Il presidente De Simone ha detto che mancano due fogli, uno è l'antimafia. L'unico foglio che si sta aspettando è dell'Agenzia delle Entrate.